Si terrà venerdì prossimo al MIB dalle 9 alle 18 il convegno organizzato congiuntamente dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri di Trieste e dall'Ordine degli Avvocati per analizzare la legge Gelli relativamente alle responsabilità del medico nei casi di errori in ambito sanitario. La legge ha precisato oggi presentando l'incontro la dottoressa Maria Pia Maier, presidente dell'Ordine degli Avvocati, si pone l'obiettivo di ricercare un punto di equilibrio tra l'eccesso di segnalazioni dei cittadini nei casi di errori in ambito sanitario e la necessità di tutelare il cittadino stesso. Si è cercato di trovare dei meccanismi che portano equilibrio e che possono cercare da un lato di far sì che il cittadino sia maggiormente tutelato, dal lato che anche il ricorso alle azioni per la responsabilità medica sia avviato su precisi binari. La legge parla di professionisti della sanità, ha sottolineato il dottor Claudio Pandullo, presidente dell'Ordine dei Medici Triestini, ritenendo quindi responsabili di errori in ambito sanitario tutte le 27 professioni sanitarie attualmente riconosciute. Questo naturalmente tutela in maniera più ampia i pazienti. Inoltre, prosegue Pandullo, la legge istituisce per la prima volta il fondo nazionale alimentato anche dalle compagnie assicurative, che interviene a garanzia dell'esercimento al cittadino qualora la copertura assicurativa della struttura sanitaria o del professionista non siano sufficienti a coprire il danno patito dal paziente. Evidentemente il rischio, la colpa, sarà divisibile secondo le proprie caratteristiche fra tutti i professionisti. Mentre finora, tutto sommato, il medico veniva visto come praticamente il master di tutti i processi sanitari e quindi molte volte era il principale responsabile e il principale accusato dalle varie procedimenti disciplinari. La nuova normativa, ha concluso la Presidente degli Avvocati, dà il via ad un osservatorio che dovrà recuperare i dati delle regioni relativi alla sinistrosità delle strutture sanitarie pubbliche che potranno essere consultati da ogni cittadino.